www.maniziopoli.it denaro quantistico digitale ecco questo sarà il futuro del denaro oggi conosciamo bene dal punto di vista in arrivo ad esempio l'euro digitale conosciamo la blockchain, conosciamo ad esempio fare un nome ethereum, bitcoin oppure conosciamo il denaro attraverso pagamenti con le carte di credito ma questo denaro fisicamente non è presente sul mio pc questo denaro è presente in un network di pc o in server che sono sparsi ovunque quindi il mio denaro fisicamente non è nel mio pc con la meccanica quantistica quindi presupponendo di avere un pc un computer quantistico otterremo una macronauta quindi più verosimile a quella che conosciamo però è presente sul mio computer quantistico e con i sistemi di meccanica quantistica che proteggeranno questo denaro il futuro del denaro sarà in questo ambiente quindi di denaro digitale quantistico alla prossima